Si chiamerà Oro Re, il primo vino della reggia di Caserta curato e coltivato da Tenuta Fontana nella vigna del Bosco di San Silvestro. La prima bottiglia è stata presentata e degustata al Vini Italia, ora di aperitivo, tra l'approvazione generale dei maggiori addetti ai lavori italiani. Ai nostri microfoni Roberto Bellini, vicepresidente nazionale dell'AIS e maestro internazionale nell'arte del vino. La scelta del nome Oro Re è stata valorata effettivamente da questa continuità di colore che inizia con il giallo dorato del suo liquido, poi continua al profumo con tutta una connotazione floreale di fiori gialli, in primis la mimosa, la ginestra, poi va verso il dolce del miele, non del fiore del tiglio e poi al gusto invece che andare a comprimersi nella freschezza del limone si avvicina a quella del cedro, a quella della frutta tropicale, va sul giallo e quindi c'è questa continuità di giallo e diventa facilissimo da raccontare. La reggia di Caserta con la nascita di Oro Re ha sottolineato il sottosegretario di Stato per la Cultura, Lucia Borgonzoni è antesignana di una strada che pian piano altri luoghi di cultura stanno percorrendo, quella di ritrovare, di ritornare alle coltivazioni situate all'interno di siti archeologici e storici. Ascoltiamo. Cosa bellissima soprattutto perché va a raccontare ancora di più i nostri territori e quei luoghi, per cui li riporta le origini, quando sono nati che cosa accadeva in quei luoghi lo riracconta, in più ovviamente è un grande biglietto da visita per tutti noi. Un'idea bellissima che racconta sempre più quei luoghi, i nostri territori e li riporta le origini, un biglietto da visita per il paese, le parole di Maria Pina Fontana, proprietaria di Tenuta Fontana. Il lavoro di una rinascita, una grande rinascita sia per il territorio sia per il rapporto tra pubblico e privato, perché parliamo di un monumento dell'UNESCO, un'area della zona del WWF all'interno della reggia di Caserta. Soddisfatto il presidente della Camera di Commercio di Caserta, Tommaso De Simone. Il connubio tra vino e territorio è un connubio fondamentale, infatti quando vendiamo un prodotto di un territorio, e in questo caso il vino che è il primo ambasciatore di un territorio, lo abbiniamo col territorio, e in questo caso è la reggia di Caserta, non abbiamo la semplice sommatoria di due momenti, ma un effetto moltiplicatore importante, diventa ambasciatore vero di un territorio. Oro Re è il risultato di un lungo e accurato lavoro di squadra e intuizione della direzione precedente portata avanti con cura da noi, spiega Tiziana Maffei, direttore della reggia di Caserta. Nel sano rapporto pubblico-privato per costruire un prodotto di qualità, dopo tanto lavoro e soprattutto con l'idea di recuperare l'identità di questo luogo.